Abbiamo anche pensato se scegliere posti un po' più simbolici, magari in cose dove scenograficamente forse potrebbe venire meglio che una austera sala di un senato. Io credo invece che secondo me la scommessa che noi facciamo è proprio quella che abbiamo fatto in questi due anni, inizio ormai tre anni, e che continuiamo a fare, è quella di mettere insieme la politica e la società civile. Cioè non è che sono due cose sganciate, non è che bisogna per forza dare fuoco al palazzo, preferiamo con il palazzo cercare di cambiare la vita quotidiana dei nostri cittadini, questo è il senso della nostra presenza qui, questo è il senso anche di questa composizione un po' eterogenea in questo banco, perché credo che secondo me si può far tesoro di esperienze, di competenze di chi in passato ha avuto la responsabilità, che ha avuto anche l'autocritica, l'ucidità di capire che con tempo è passato, è finito, e chi gli viene richiesto di avere un ruolo principale deve avere la capacità di accogliere, di capire che non tutto ciò che non è qualcosa che si identifica con noi debba essere cacciato, bruciato, condannato oppure beffeggiato. Questo è il nostro punto di vista, noi siamo questo. Oggi mi auguro che si cominci a parlare un po' più di cose concrete, mi auguro che la gente ci dica no, non sono d'accordo, sì, no, perché, per come, e cominciamo a fare un dibattito su ciò che amano i romani, non ciò che amano i partiti o con i quali aspirano a avere una carica in questa città.